Ci sono dei cambiamenti alle regole molto importanti in Formula 1. Alcune modifiche sono più positive, altre più negative, e ne parliamo nel corso del video. Ma non solo, andremo a parlare anche della questione Christian Horner, che finalmente si è conclusa. Il team principal di Red Bull rimarrà al team di Milton Keynes. In sostanza, Red Bull ha protetto il suo capo. Ma siamo sicuri che è stata una decisione positiva e non avrà ripercussioni nel paddock? Ne parliamo dopo, come anche degli sviluppi che arriveranno sulla Ferrari SF24. Ma prima volevo dirvi che la FIA ha stretto un nuovo accordo per evitare i giri troppo lenti in qualifica. Spesso in diverse piste ci siamo lamentati che ci sono dei piloti troppo lenti che vanno a creare impeding e quindi bloccare il giro veloce degli altri. E questo è uno scenario che nella categoria massima del motorsport è inaccettabile. Per questo la FIA è intervenuta per rendere ancora più aspri i controlli nei giri in qualifica e nella riconizione pre-gara per evitare che dei piloti vadano troppo lenti, sia nel posizionarsi in griglia ma anche quando hanno già fatto un giro veloce in qualifica e magari fa comodo ad andare più lenti perché sono già qualificati per la sessione successiva e possono disturbare gli avversari. Per questo, a partire da quest'anno, ogni pilota dovrà rispettare un tempo minimo in ogni microsettore della pista, non solo nel corso del giro intero. E questo è un gran cambiamento che avrà delle ripercussioni anche tra tutti i piloti perché nessuno potrà fare il furbo, ci sarà un'attenzione maniacale, come è giusto che sia secondo me. Ma andiamo a approfondire questo tema e anche il discorso del parco chiuso perché sì, dobbiamo parlare ancora di questo elemento tanto discusso e tanto odiato anche da noi fan perché sono state approvate delle modifiche molto importanti della FIA. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema auto e formula 1. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questi cambiamenti fatti dalla FIA, della questione di Christian Horner. So che in tanti siete contrari a questa scagionatura del team principal di Red Bull, ditemi il motivo nei commenti. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram il rastro dove pubblico contenuti a tema automotive e vi avviso quando escono nuovi video su YouTube. In più non dimenticatevi che ogni pomeriggio nei weekend di gara andiamo in live per commentare le prove libere, le qualifiche e la gara stessa. Io sono Rastro e ora iniziamo subito con questo video, ma prima sigla! Abbiamo sempre visto nella storia da Formula 1 dei piloti troppo lenti durante le qualifiche che vanno poi a ostacolare i piloti che vogliono effettivamente fare il tempo sul giro e quindi sono nel loro giro lanciato. Questo tema è sorto di più ovviamente nelle piste più strette, penso a Monaco, Singapore, Baku, ma anche Australia, insomma nei circuiti cittadini, dove ci sono meno vie di fuga e spazi ampi nella carreggiata della pista e quindi i piloti fanno un po' i furbi, magari stanno un po' in mezzo, non si spostano del tutto per andare a infastidire gli avversari. Questo comportamento è scorretto ed è sempre stato difficile da sanzionare perché è difficile vedere la volontarietà del gesto, essendo che le tecniche ormai negli anni si erano affinate sempre di più per cercare magari di bloccare gli avversari ma senza essere sgamati. Per questo state fatte modifiche su modifiche ai regolamenti per adattarsi a ogni tipo di situazione con l'obiettivo di evitare che certi piloti possano essere degli ostacoli per chi sta facendo il giro veloce anche perché c'è il tema della sicurezza che è molto importante in Formula 1 e la differenza di velocità tra chi va lento e chi sta facendo il giro è ampia e questo può creare non pochi problemi in termini di sicurezza per la FIA che è l'ente che garantisce questo elemento. Nel corso degli ultimi anni il direttore di gara Nils Wittich ha aggiornato in più occasioni le linee guida prima di ogni weekend di gara per dare delle informazioni specifiche da circuito a circuito. Un altro esempio che mi viene in mente di scarsa sicurezza mantenuta in pista è quando i piloti procedevano troppo lentamente in pit lane per distanziarsi abbastanza dall'auto davanti per avere più spazio e poi per lanciarsi in pista. Per questo dopo alcuni episodi successi l'anno scorso ad Abu Dhabi furono vietati anche i sorpassi in uscita di pit lane ma era importante anche sostenere un ritmo sostenuto durante la pit lane e non andare troppo lenti per evitare di ostacolare gli avversari. Se vi ricordate l'anno scorso Max ha fatto tanti sorpassi in pit lane prima che questa norma fu approvata perché era concesso si potevano sorpassare le macchine troppo lente in pit lane qualcosa che andava a destabilizzare notevolmente la sicurezza in pista. Ci ricordiamo alcune manovre di Verstappen molto discutibili ma adesso che è iniziato il mondiale 2024 Niels Wittich ha approvato una nuova norma che va a cambiare il regolamento per tutto il campionato quindi non ha approvato una linea guida che varia da gara a gara ma è stato approvato un cambiamento che varrà per tutta la stagione. Se vi ricordate l'anno scorso c'era stata un'altra norma che aveva imposto un tempo massimo tra l'entrata in pit lane e l'uscita ovvero la prima e la seconda linea della safety car il tempo limite era vincolato solamente dall'entrata e dall'uscita il pilota poteva cambiare la sua velocità durante il percorso in pit lane quindi ci potevano essere dei scenari particolari dove la sicurezza veniva messa in secondo piano lasciando il pilota libero di andare più piano o più veloce in certi momenti della pit lane infatti a partire da quest'anno il controllo sull'andatura durante il giro sarà monitorato per intero ogni pilota dovrà rispettare un tempo delta minimo in ogni microsettore e non solo nello spazio tra l'uscita e l'ingresso della corsia box sappiamo che ogni microsettore è delineato dai cartelli led imposti dalla FIA presenti su tutta la pista e questo concetto riprende la virtual safety car dove i piloti devono rispettare un'andatura minima in ogni sezione del tracciato e secondo la FIA questa nuova norma eviterà dei piloti troppo lenti in pista con dei piloti troppo veloci penso specialmente alle qualifiche perché ogni pilota dovrà rispettare un tempo minimo in ogni microsettore quindi non si potrà rallentare più di tanto stare quasi fermi in pista cosa folle che prima era concessa questa norma sarà attuata anche nei giri di ricognizione prima di schierarsi in pista prima della gara e della sprint race e qualsiasi pilota che supera il tempo massimo imposto dalla centralina della FIA in qualsiasi microsettore della pista beh verrà considerato come inutilmente lento e per questo verrà sanzionato attenzione a questo tema perché è molto importante e lo ritroveremo quest'anno durante le qualifiche specialmente e sarà un punto di discussione non da poco perché vedo già alcuni piloti che magari in un microsettore vanno troppo piano e poi però si appellano alla FIA per non essere sanzionati quindi la regola di base è buona è chiara e garantisce più sicurezza in pista perché non permette ai piloti di andare troppo lenti però bisogna applicarla bisogna far sì che tutti i piloti la rispettino e che non ci siano dei reclami approvati o delle sanzioni non date ovviamente in caso di infrazione gli steward dovranno verificare il motivo per il quale il pilota è andato troppo lento e in che posizione una pista è per lasciar passare gli avversari che stanno concludendo il loro giro in qualifica ovviamente come sempre verranno applicate anche delle linee guida da circuito a circuito per chiarire ai piloti dove possono lasciare più spazio agli altri in quale curva c'è una via di fuga più grande per evitare delle differenze ampie di velocità in pista sulla traiettoria ideale che è lo scenario più pericoloso è stata approvata anche una nuova regola molto importante che io chiedo da tantissimo tempo e sono contento che la FIA l'abbia approvata ovvero che nei weekend della sprint race dopo la sprint race del sabato prima delle qualifiche ufficiali per la gara della domenica verrà riaperto il parco chiuso e quindi i team potranno intervenire sulla macchina per modificarla a setto ripeto prima dell'inizio delle qualifiche del gran premio nella giornata di mercoledì abbiamo visto che la FIA ha approvato con il consiglio mondiale nuove regole tra cui questa ci ricordiamo che fino all'anno scorso il parco chiuso entrava in azione da dopo le prove di bre 1 nei weekend della sprint race per restare in vigore fino alla fine del gran premio mantenendo lo stesso setup per la sprint race e la gara della domenica questo scenario a me non piaceva tanto perché non permetteva ai team di modificare il proprio setup in base alla tipologia di gara sappiamo che la sprint race è una gara breve e quindi rispetto alla gara intera della domenica esige un setup diverso è una cosa logica l'unico modo per cambiare il setup l'anno scorso dalla sprint race alla gara era quello di accettare di partire dalla pit lane come fecero l'anno scorso Aston Martin e us a Austin ma capite bene che se vieni penalizzato non ha nessun senso cambiare il setup sostanzialmente quest'anno durante i weekend della sprint race ci saranno due momenti dove ci sarà il parco chiuso il primo andrà da dopo le prove libere 1 prima delle qualifiche della sprint race il venerdì fino al sabato dopo che si è conclusa la sprint race e dopo che hanno effettuato i controlli mentre il secondo scatterà dalle qualifiche di sabato pomeriggio fino alla conclusione del gran premio della domenica sostanzialmente ci sarà un periodo libero dove si potrà modificare il setup da dopo la fine della sprint race fino all'inizio delle qualifiche del sabato in quelle ore i team potranno modificare la macchina secondo i dati raccolti nelle sessioni precedenti e anche cambiando la monoposto in base alla gara della domenica c'è anche a dire che questo tempo per modificare l'assetto è molto breve qui sarà sicuramente una corsa contro il tempo per gli ingegneri per apportare le diverse modifiche alla monoposto in seguito alla sprint race in più la FIA ha approvato una nuova norma al regolamento i team avranno a disposizione una terza vettura che potranno utilizzare solamente in caso di incidente grave in pista dove viene smantellato distrutto il telaio di una propria monoposto e per un cambio vettura più agevolato i team potranno avere a disposizione una terza macchina da utilizzare ovviamente questa richiesta andrà mandata alla FIA e deve approvarla anche questo accambiamento lo approvo perché permette ai team che hanno fatto un incidente molto grave in pista di avere subito una vettura di ricambio e quindi il pilota può correre nelle sessioni successive senza dover saltare delle sessioni perché la macchina non è pronta ovviamente questo vale solamente nei scenari dove ci sono degli incidenti gravi dove si va a danneggiare pesantemente il telaio questo è quello che ha specificato la FIA sul regolamento e il lavoro sulla terza monoposto nel caso venga approvata dalla FIA sarà esente dal parco chiuso così i meccanici avranno tutto il tempo a disposizione per lavorare su quell'auto senza dover rispettare i vari coprifuoco che vanno a stressare il lavoro dei meccanici e ridurre il tempo a disposizione un'altra modifica approvata dalla FIA riguarda il raffreddamento del cockpit dove c'è il pilota infatti ogni team da quest'anno come abbiamo visto nei test ha aggiunto una presa d'aria sul muso nella parte alta del telaio con il compito di andare a raffreddare la zona del cockpit quindi l'abitacolo del pilota ha aggiunto anche la FIA che non potrà essere messo del ghiaccio secco all'interno della presa d'aria in quanto ritenuto potenzialmente pericoloso questa presa d'aria potrà essere aggiunta o tolta dai team a seconda delle condizioni della pista se non fa così caldo può essere tolta anche in condizioni di parco chiuso penso che anche questo cambiamento sia stato fondamentale visti i precedenti dell'anno scorso penso specialmente alla gara in Qatar dove i piloti sono arrivati in condizioni estreme a fine gara quasi non ce la facevano più a guidare e quindi aggiungere una presa d'aria ulteriore che arriva nell'abitacolo non è importante, è fondamentale per permettere al pilota di guidare al limite senza avere troppo caldo un'altra cosa importante è che la FIA ha detto che entro il 2025 arriveranno anche delle norme sulla guida dei piloti in pista sia in Formula 1 che nelle categorie minori per chiarire quale manovra è consentita e quale no ci ricordiamo in passato quello che successe tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nel Gran Prima del Canada nel 2019 quello che successe lo stesso anno tra Leclerc e Verstappen a Silverstone o più recentemente quello che abbiamo visto con Verstappen e Hamilton nel 2021 tante di quelle manovre erano molto discutibili e la FIA per il 2025 andrà a chiarire cosa è consentito e cosa no ma una cosa importante da dire su questo punto ci sta magari evitare che si creino delle situazioni grigie dove non si capisce se un pilota deve essere sanzionato o meno ma non bisogna limitare l'estro e il talento dei piloti questo è fondamentale, stiamo parlando di Formula 1 la massima categoria del motorsport non si possono andare a limitare certe manovre perché al limite lo stesso Fernando Alonso è intervenuto su questo tema dicendo che queste linee guida che arriveranno in futuro saranno fondamentali per dare più responsabilità ai piloti delle proprie azioni ovviamente se lo dice un pilota dall'alto della sua esperienza come Alonso ci fidiamo tutti però è importante, ripeto, non andare a limitare il talento dei piloti infine sono stati approvati i fornitori delle Power Unit per il 2026 ditemi cosa ne pensate nei commenti di queste nuove regole della FIA ma ora parliamo di Christian Horner perché è stato scagionato da Red Bull stessa tutti noi dicevamo che era molto più probabile che si dimettesse piuttosto che rimanesse invece Red Bull con un comunicato stampa ha dichiarato che l'indagine indipendente in merito alle accuse mosse contro il signor Horner è stata completata e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta detto questo penso che il caso Horner sia più uno scandalo siamo tutti d'accordo il fatto che sia rimasto al suo posto difeso da Red Bull significa che Red Bull ha preso le sue parti ha cercato di difenderlo secondo me, viste le accuse, la realtà è ben diversa ma al netto della sentenza penso che la sua credibilità personale sia stata minata e quindi lui sicuramente avrà delle ripercussioni personali per quello che è successo perché è sotto gli occhi di tutti invece dal punto di vista sportivo purtroppo, aggiungo, non ci saranno delle ripercussioni in futuro penso che comunque Red Bull continui per la sua strada questo caso verrà archiviato il prima possibile e tra qualche mese non ce ne ricorderemo neanche più perché è così che funzionano queste sentenze quando il team si posiziona dalla parte del proprio team principal Horner ha fatto il successo di Red Bull ha portato il team in auge lo sappiamo tutti però dal mio punto di vista quando uno sbaglia è giusto che paghi in questo caso invece è stato coperto dal proprio team sicuramente per Red Bull stessa mantenere un clima compatto all'interno del team è fondamentale in questo momento della stagione quindi capisco la volontà di difenderlo per il bene della squadra però visto il comportamento scorretto che ha mantenuto il team principal penso che delle conseguenze andavano prese per le azioni compiute quindi Christian Horner rimane nel suo ruolo di team principal in Red Bull questo capitolo è chiuso ma ditemi nei commenti secondo voi se avrà delle ripercussioni in futuro penso specialmente all'accordo tra Red Bull e Ford dal 2026 sappiamo che Ford ha un codice etico diverso rispetto a quello che ha Red Bull magari potrebbe decidere di non continuare con la collaborazione anche se secondo me questo accordo commerciale che c'è tra queste due parti è troppo grande per essere interrotto da una faccenda che riguarda una singola persona con Horner o senza Horner l'accordo tra Red Bull e Ford si farà questa è la mia opinione ma ditemi anche la vostra nei commenti ditemi cosa ne pensate anche delle nuove regole in Formula 1 siete pro o contro ditemi la vostra infine voglio dirvi che i Ferrari stanno già lavorando per le modifiche che avverranno sulla SF24 nei prossimi mesi e quindi sui prossimi sviluppi come sempre vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale ogni settimana escono nuovi contenuti a tema auto e Formula 1 vi ricordo che siamo in live ogni giorno durante i weekend di gara per commentare le prove libere, qualifiche e la gara stessa quindi non perdetevi le live qui da Lastra è tutto ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao